L'Italia under 21 di inunziata, affronta a Kojeli la Turchia nella seconda gara delle qualificazioni Eru 2025. Partono meglio i padroni di casa, al tredicesimo subito un brivido per la difesa italiana con il colpo di testa di Yardimsi che finisce fuori di un soffio. La risposta azzurra al diciottesimo, sul cross da sinistra Esposito non ci arriva, Casadei sì, controllo e tiro che finisce alto. Insiste l'Italia, al ventesimo Baldanzi scappa via a destra, palone basso per Esposito che in spaccata manda sull'esterno della rete. Ventiquattresimo ancora a Turchia con la gran botta di Kenan Ildiz, il giocatore della Juventus sfiora il palo alla sinistra di De Planche. Quartaduesimo, altra occasione per l'Italia, un dur tocca corto per Casadei, sinistro di prima intenzione, pallone sopra la traversa. Al terzo di recupero del primo tempo l'Italia passa, grande giocata di Esposito dentro l'area di rigore, dribbling e assist perfetto per Miretti che di piatto insacca l'1-0 azzurro e il primo gol in under 21 del centrocampista della Juventus. Ripresa che si gioca su ritmi più bassi, al sessantunesimo ci prova ancora Kenan Ildiz, conclusione al volo ma la difesa azzurra riesce a respingere. Nunziata inserisce Nassi per Esposito e Bove per Miretti, al settantottesimo l'Italia trova il raddoppio. È un super gol quello di Nassi che sul rilancio di De Planche sfrutta il lobby di Baldanzi, vince il duello con il difensore, dai 30 metri fa partire un destro imprendibile per Alemdar, sistemato fuori dai pali. È la rete che in pratica chiude la partita, 83esimo De Planche, prima si fa sfuggire il pallone e poi ferma miracolosamente la conclusione ravvicinata di Uguri il Diz. Azzurrini che sfiora nel trisne recupero con la bella combinazione Zanotti-Fazzini, il rasoterra del giocatore dell'Empoli deviato in corner dal portiere turco. Finisce 2-0 per l'Italia che conquista così la prima vittoria nel girone, prossimo impegno il 17 ottobre contro la Norvegia.